Ciao, sono Debbie Ryan. Seguitemi nella serie Jessie. Ora per voi i consigli della tata. Dalla lontana Manhattan, Debbie Ryan protagonista della serie Jessie. I suoi consigli per essere una buona tata. Le tate devono essere sempre gentili e comprensivi. Zuri, è veramente un bellissimo... leone! Devono concedersi del tempo per capire i bambini. Sei tu! E dare sempre il buon esempio. E deve essere anche forte come un toro. Accidenti, queste noci hanno ancora il guscio. Oh, grazie! Ma una tata deve anche saper essere severa. Una tata deve sempre ricordarsi di essere una tata. Basta chiacchiere. Guarda di che cosa è capace una tata. Guarda cosa succede su quell'albero. Shh! Bel colpo! Grazie, Luke. Meglio portare i miei glutei maximi via da qui. Non deve mai mettere in imbarazzo i bambini. Ora guarda e impara. Scalerò il muro più veloce di una scimmia ragno adrenalinica. Luke, non dimentichi qualcosa? Oh, già. Trevor, scommettiamo la paghetta. No, 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 no. Non mi riferivo al gioco d'azzardo, Luke, ma al casco di protezione. Non posso indossare questa roba. Come no? Ti stringo il laccetto. No, sopra c'è disegnata una principessa. E c'è una principessa anche sotto. Infine, una tata non deve mai cedere agli occhi dolci. Allora, ci viene al mio tà delle cinque, vero? No. Non guardarmi così. Per favore. Non posso. Per favore. No. Va bene, va bene, va bene. Sono Debbie Ryan e questi sono i miei consigli per essere una buona tata. Ti aspettano altri consigli. Segui Debbie negli episodi di Jesse. Solo a Disney Channel. Sì.